vediamo qua questo qui dovrebbe far ridere oddio va bene ok qua le solite cose eh grazie vediamo Come play with yourself then! No one wants to play stupid Tox and Roberts! We're not going to play Wizards vs Elves again. We're sick of that game! I'm with Kenny. We should play Aliens vs Robots! No way! Guys, Christian vs Jews is way more fun than any of those! Ohhhhhhhhhhhhhhh That's enough! It's the sheriff! We are playing... Cowboys and Indians. No way man! The Cowboys always get their asses kicked by the Indians! We're not anymore! There's a legend of a new sharpshooter. A kid who is a master... ...of his phone. This kid is apparently on the phone, all the time. If a kid like that exists, how are you going to convince him to play with us? Simple. I'm going to call him. Hang on a sec guys, I'll be right back. Oh my God... Oh my God! Oh my God! We need you to come play with us! Put on some cowboy shit and meet us outside! And bring your phone! Oh my God! Oh my God! I'm sorry! Oh my God! We're all going to play with us! oddio ora si ora si facciamola facciamola aspettandoci facciamola facciamola si capendi no no adesso facciamola 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 un barba no un barba questo oddio vabbè a chiari no dai questo è riporto segni particolari non si va a metto e ce l'ho e ce l'ha dietro intanto facciamo questo ok ai vestiti giusto perché vabbè la pelle è finito di personalizzare sì dai ah che non mi piaceva il cobbolo oddio ah ho capito ma bebe mio ok un belino dai ma non si può ingrandire guarda come scappato è un'ora per camminare sì ma in italiano no 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 ma bello mi stai appena si però qua allora gioca livello ma gioca eh si lo so si ma che è premuto sulla carta per due tenere è premuto ci sta ok la usavo per un po' breve beh non penso che questi messaggi ogni volta ok il bistino sbloccato ok 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 che cosa ok ok aspetta vediamo se quando arrivano messaggi no ormai se ne sono dato messaggi aspetta un attimo non ci sono impostazioni impostazioni invia commento segnalo al giocatore addirittura impostazioni a conto ok ok twitter addirittura messaggio ok statistiche ok a ver non lo so ma io so ma io so obiettivi ma impostazioni dovrebbero essere sta cosa ma aspetta basta scendere ok che cavolo va bene va va bene ce l'abbiamo fatta ok allora episodio 1 ma io non ho capito se poi si può giocare online ma penso di si perché ce l'ha scritto segnalo al giocatore quindi continuiamo oddio quante carte ok per togliere il messaggio basta scuola solo ora 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 ho usato troppo presto però ecco ok abbiamo che No, ancora no. Che esce stavolta? Jimmy conta un storia. Magari. Madonna. Ok. Dai, avvicinatevi. Vabbè, ho vinto. Ok. Ah, ok. Ah, verso l'alto bisogna fare col dito, muoversi. Eh, sì, vabbè, però. Ok. La piuma. Un colore. Allora, io non capisco. Vabbè, ce l'ho ancora. Come si gioca contro altre persone? Forse dopo si sblocca. Allora. Ok, ok. Get it, scoff. There's a new sheriff in town. Fire in the hole. Get it. Get it. I'm gonna get it. Reach for the sky. In for the phone. Hey. no 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 ah ah beh carino dai token chamada si 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 b ho questo è duro guarda ok ok no danno questo è nuovo ok ok ma purtroppo non so se si vede poi dritto spero di si nel video prendi ma io ah ok ok no no ma questo è gratis no no lo incollo eeeh tutte queste cose bello vabbè vabbè all'inizio cacca di cale si chiama questo vabbè bello troppo forte dai allora si torna indietro ci sono i messaggi è sempre ok facciamo continuo e un po' e quindi qui qua sopra no niente ma io le carte le posso scegliere com'è qua ma ma forse perché ancora ho poche carte e vabbè un attimo ma la riprendiamo ecco qua non nelli c'è un bracco di ratti pure c'è un bracco di ratti c'è un bracco di ratti c'è un bracco di ratti natal i topi no bello 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 cacca di cale ok forse ho capito ma il bracco di ratti è forte troppo bello si chi è qua Sharon è la guaritrice oh ci sono anche le guarigioni madonna che grande madonna che grande oddio ahahahah ahahah 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 oddio ahahah ahahah guardate i topi distruggete eh quella guarisca ahahah 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 è troppo forte no bello bello mi sta piacendo oddio che è questo cacciatore di testa lento stupido e punta solo i leader nemici ahah bello ma basta potenzia queste carte potenzia queste carte salute ok ah ah allora quante ne ho io la voglio obiettivo sbloccato mio dio possono potenziare le carte queste carte ma sta giocando eh certo eh meglio oddio che è questo i grandi giocano a modelli cinese ok e quindi ok ma che è qua ma che è qua ma che è qua e combattimo il mazzo pacchetto predefinito non c'è il mazzo qua combattimo vabbè ricerca avversario bello bello le partite durano tre minuti questa è la barra della sua i suoi telefoni e ci sto donno a ok ah ok ah ah Oddio chi è questo qua? Oddio Oddio chi è quello? Per caricare Per caricare E' vero no? Da lì direttamente Brancodiratti Ehi Vittoria Bello 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 Vittoria Non ti dice nient'altro Niente Bastava cliccare sul disco Ok Allora apri Il pacchetto tv E' davanti a carta Questo è un altro Bombardine volante che infligge Danni a zona Oh che cos'è questo? Grazie Ok Tieni No Allora 9 oggetti Questo è combatti Passa combattimento accesso Ok Ma le mie carte Mazzola Ecco Appaiono a caso Le devo scelte Aspetta no Vediamo Allora Allora Vediamo un po' Voglio potenziare Per esempio Ok c'è l'evento Continuo Dove si potenzia Dove si potenziavano Creatore Di mazzi Creatore di mazzi Ok Qua No Questo non c'è Ah ma si può guardare anche l'acqua negozio quotidiano Battaglia PPP Inventario Forse Ehm No Mi sembra che no Novità Vestili Allora Aspetta aspetta Perché mi sembra che si fa Allora Allora l'arena 3 Si fa quello Il pacchetto gratuito Gioca PPP Ma Forse è questo Si Ma per potenziare le carte Ancora Aspetta Perché Non mi sto ricordando No Scopre Ok In fondo Bisogna andare Mi sembra Ora vediamo se ho fatto bene qua 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 si compro Un'epoca Questa è il negozio Non è No Non è quello che pensavo No Facciamo 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 Che si sblocca dopo Che si sblocca dopo Tardo Mi raccoglie Sblocca Ma che è quello Ma chi è quello Allora Sparo 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 Mamma mia che volo! Mamma mia... Ho pure il bracco di cane, che puoi fare? Mamma mia, come corri quella? Mamma mia... Mamma mia... Mamma mia... Mamma mia... ehi vittoria ok bene ottieni no no grazie allora doppio bottino potenza queste carte in effetti bandita una potenza ma le carte ma sto 15 attacco 7 e che obiettivo sbloccato ok ecco il numero di copie nuvo livello ecco perfetto altro obiettivo sbloccato va bene allora io ce li ho tanto potenziamo che me ne frega aia nuovo livello così 7 sempre 7 l'attacco niente a perché non ho le piume mannaggia allora che posso potenziale a sto punto potenzio tutto ma non mi servono le piume e se mi servono le piume ma quelli sono nuovi ok bene arena combatti mazzo mazzone non mi servono le piume Ok Vediamo un po' Guarda che potenziale Eh quello è il livello 1 però Vediamo che tira Si si Oh E' il forte Ah Chi spari Oh E' il forte E' il forte E' il forte Ah E' il forte 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 No Guarda che non si spara Non si spara Non si spara Non si spara Oh Oh Ah Ah Oh Commando Procedure Oh Prancodiratti 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 E' buono In questo caso Aiii Eee Buono ok disintegrato era forte però è un certo punto va bene ecco ora si vedono le stelle diciamo avremo tre armadiglietti solo biglietti potenza come potenza ma questo lo posso potenziare ora ci vogliono le altre cose aspetta allora aspetta che potenzio la siringa oddio e allora questo lo posso potenziare basta ci vuole la siringa servono ok non posso potenziare più niente ora basta ecco non è ok quando non li puoi potenziare non ti spuntano ok ok allora ottieni cosa mi dà qua vediamo no vabbè l'ho visto pure prima aspetta qua ci sono ah con i biglietti puoi prendere quello che ti serve eh sì è un ottimo ok sì perché questo ti serve che potenziale no vabbè io ho tanta cosa cosa come da orso sfera di fuoco la carta quindi non mi interessa apriamo questo oddio che è quello peccato che non è in italiano perché però dai ci accontentiamo vabbè questo è il gioco secondo me è molto divertente buon divertimento è molto divertente